Buonasera e benvenuti alla cerimonia di conferimento della laurea Onoris Causa da parte dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, al priore della comunità monastica di Bose, padre Enzo Bianchi. Non è possibile vita spirituale senza consapevolezza del cibo, senza attenzione al cibo, senza che si accenda l'arte del mangiare, senza che il pasto sia un rito creatore di senso, senza un'esperienza di condivisione e di comunione intorno alla tavola di tutti i beni della terra. Se l'uomo è ciò che mangia, secondo il noto aforisma di Feuerbach, è anche vero che l'uomo si umanizza soprattutto con l'arte del mangiare e che la sua vita spirituale si nutre del cibo, del significato attribuito al cibo, dell'arte di mangiare insieme, del vivere con stile la tavola. Ecco, proprio sulla tavola vorrei ora riflettere insieme a voi. racconterò dunque di tre tavole. La tavola di casa mia nel Monferrato, tavola di accoglienza di chiunque anche dello sconosciuto. Narro innanzitutto della tavola di una famiglia negli anni del dopoguerra in Monferrato, una famiglia povera e anche precaria, disgraziata. Mio padre faceva lo stagnino, stagnava pentole e macchine da verderame, con poco guadagno. Ricordo ancora che molti contadini gli pagavano il lavoro eseguito con verdura, sei carciofi, cinque chili di patate, tre chili di pomodoro. La cucina era la stanza che si affacciava sulla strada e chi entrava era subito stupito da quel grande tavolo in noce massiccio che si trovava di fronte. Durante il giorno sul tavolo vi era una tovaglia sulla quale stavano un pane, una grissia, si dice da noi, un fiasco di vino rosso, barbera o dolcetto, e un orciuolo con l'olio. Il tutto era ricoperto da un tovagliolo ricamato a punto croce da mia madre con la scritta, il pane, il vino e l'olio ci trasmettano lezione sapienza. C'era una venerazione per il pane da parte di tutti, mai sprecato, mai posato male sulla tavola e sempre, sempre condiviso. Ma la tavola di casa mia aveva soprattutto una caratteristica. Era sovente un luogo di accoglienza dello sconosciuto. La mia casa era al centro del paese, davanti alla chiesa e all'unica piazza, quindi il luogo di arrivo di zingari, mendicanti, le chiamavamo lingeri, venditori ambulanti. Proprio loro erano gli sconosciuti, invitati sempre a tavola, perché mio padre ripeteva è vergognoso dar da mangiare a un povero alla porta. Ho capito ben presto che la festa nasce dall'azione del condividere più che da ciò che viene condiviso. Basta poco, ma se è condiviso, quel poco moltiplica lo stupore dell'incontro, desta la gioia. Un'altra tavola che vivo ormai da più di cinquant'anni è quella del monastero. Innanzitutto nella comunità monastica c'è il refettorio, luogo molto simile alla chiesa, perché è l'altro polo di raduno della comunità. Nel refettorio si entra in silenzio, ciascuno va al suo posto in modo ordinato e si attende che arrivino tutti i fratelli e tutte le sorelle. Inizia la condivisione del tempo. La prima cosa che si condivide a tavola è il tempo. Mangiare insieme insegna a vivere bene insieme e di conseguenza anche a mangiare bene. La commensalità nutre ed esprime la convivialità. A una tavola così, che sa anche accendersi di gioia nei giorni di festa, hanno trovato posto in tutti questi anni e continuano a trovarla anche i poveri e gli ultimi che sovente si affacciano con semplicità e fiducia alle porte del monastero. Il cipo condiviso, credetemi, è anche consolazione nelle prove. E forse noi monaci, proprio grazie alla solitudine vissuta in comune, siamo capaci di viverlo così, in semplicità, in sobrietà, ma con la festa che nasce dalla condivisione. Terza tavola, la tavola eucaristica. Magistero di inclusione, di accoglienza di tutti. Perché al centro del luogo di assemblea liturgica cristiana c'è una tavola? Ciò è specifico dei cristiani, solo dei cristiani. Non trovate questo né nell'ebraismo, né nell'islam, né nelle altre religioni. Ma ovunque voi entriate in una chiesa, voi trovate una tavola. Anche se magari, lungo i secoli, nelle diverse vicende storiche, questa tavola a volte è stata camuffata e non è più riconoscibile. Ma grazie al Concilio c'è sempre una tavola, la vedete qui, più avanti, per ricordare che comunque anche quello che noi chiamiamo altare era una tavola. E questa tavola è al centro, dove possono convergere tutti gli sguardi, in modo che tutti possano sentirsi invitati. La tavola del Signore è anche tavola in cui si spezza il pane, cattedra della condivisione, perché il pane quotidiano va sempre condiviso. Oltre al pane che dice la vita, c'è il vino che dice l'amore, che cambia il pasto in un banchetto, che rende i compagni, coloro che mangiano lo stesso pane, companis, anche amici che cantano la vita. Un grazie a Carlin Petrini, non solo come amico, ma perché è un raro, autentico amante della terra. Uso solo questa definizione. Le tre tavole che ho vissuto e che vivo sono in realtà la tavola della fraternità e dell'amicizia, l'unica tavola che celebriamo anche ora qui insieme. Grazie a tutti. Grazie.